Gli esami sono finiti. Poi andremo al college! Rosselle, stai bene? Mi sento un po' tagliata fuori. Sembra di stare in un team drama. Ho scaricato quest'app. Non riesco a smettere di pensare a Rosselle. Non è più la stessa. Colpa di tutto questo è di Red Rose. Mi conosce! Mi segui ovunque io vado! Sapete cos'è Red Rose? Non è vero. Qualunque cosa sia, può essere dappertutto. Quindi devo tornare a Button e sperare di non morire. È pericoloso. Nessuno di noi dovrebbe stare su un'ora. Tu credi ai fantasmi? Rosa rossa. Rosa rossa. Che con i morti parlare io possa.